Salve a tutti da Belo Horizonte, siamo al Minerao, lo stadio che ospita due leggendari squadre brasiliane, il Cruzeiro e l'Atletico Mineiro. La partita di oggi è tra Gremio e San Paolo. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronica di oggi, Luca Marchiaggiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Decidono di giocarla all'indietro. Bel gesto tecnico. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per i farsi. Magari ci riproverà ancora. Può crossare in aria. L'appoggio sulla fascia. Ottimo intervento. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Tocca verso il centro. E manca il cross per un soffio. C'è l'opportunità per il contropiede. Ancora fuori dall'area. Nessuna delle due squadre ha ancora preso l'iniziativa. Siamo in una fase di studio. Buono questo tentativo sulla fascia a sinistra. Prosegue nella sua corsa. Fase di stallo. La partita è molto pericolo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. E' uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Se ne va. Occasione. Trova la giocata di Fino. E trova bene il compagno. Sulla destra. Trova l'andare. Ancora fuori dall'area. Passaggio sulla destra. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vuole una profondità. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Palla giocata alta sulla fascia. Ecco il cross. Devi è di testa. Una buona iniziativa ma non è bastante. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno. Ma lui non ci è riuscito. Prova la giocata di uno spazio. Prova a verticalizzare. E non va troppo per il sottile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intervento duro ma corretto. E passa. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bella rete di passaggi. Provano a ripartire da dietro. Prova con la palla lunga. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. E che così il risultato si sblocca. Si riprende con il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre sono disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita. E lo spettacolo migliorerà. E contronessione. Solta e colpisce di testa. Il pallone è dentro. E segnano il primo gol dell'incontro. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. E' un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi. Ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Vedo un movimento a bordo campo. E sì, stanno cambiando le carte in tavola. E il risultato si sblocca. 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore, ha funzionato. 1-0. Ha spazio sulla fascia. Palla in profondità sulla fascia. Traversone verso il centro. Hanno già riconquistato palla. Ancora in mezzo. Circa il tiro. E c'è il gol. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire. E te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente. Se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. C'è la palla lunga in avanti. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Guarda via! Guarda via! Conclusione! Bella parata! Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. La mette sulla sinistra. Prova il filtrante. Occhio alla conclusione. Palla in avanti verso il compagno. Il gremio non è ancora effettuato carlo. Pallone alto nello spazio. Si è lungo e trova la palla. Fallonetto. C'è un tra di due. L'arbitro vi si avvicina. Ma scarci il cartellino che infatti arriva. Cialo! it E perde il duello fisico con l'avversario Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi Mantenere i nervi saldi E tutto solo la dà Occhio al tiro Occasione sprecata Qui le opportunità vanno capitalizzate E' una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio Ci mette il fisico e conquista il pallone Cerca la profondità, sulla fascia Vuole il lancio filtrante Palla intercettata Può provare Eh ma doveva metterla dentro qui Stanno giocando bene adesso E' il tempo che sta per scadere Palla larga in profondità L'arbitro ha ravvisato in regolarità Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio L'azione mi staglia a cento campo Ma il tempo scorre inesorabile Passaggio sulla destra Si libera la grande Ottima giocata Prova il cross in aria Intercetta il passaggio Pericolo Lungo passaggio in avanti E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero Riceve in ottima posizione La mette in avanti Non c'è più tempo Finisce qui Unico vero vincitore L'equilibrio Partita che finisce in pari ovviamente Sentiremo poi in settimana Nelle interviste Se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti Della prestazione